Su Eusebio Dalì e Giovanni Amico, attuali vicepresidente e direttore generale dell'Ast, è in corso una valutazione da parte degli uffici della regione che stanno esaminando le loro posizioni nell'ambito dell'ordinanza del GIP che ha portato nei giorni scorsi all'arresto dell'ex DG Andrea Ugo Fiduccia e ad altri 15 indagati. È quanto emerge dall'audizione in commissione antimafia dell'Ars che per quasi un'ora e mezza ha ascoltato l'assessore regionale all'economia Gaetano Armao. Amico risulta indagato mentre il nome di Dalì compare in diverse intercettazioni. Armao ha comunicato l'avvio dell'istruttoria negli uffici di via Notarbartolo rispondendo alle domande del presidente dell'antimafia Claudio Fava e della commissaria Roberta Schillaci. Ho scritto al ragioniere generale della regione di fare le verifiche alla luce dell'ordinanza del GIP, dopodiché, ha detto Armao, saranno assunte le determinazioni senza aspettare la magistratura. A studiare le carte saranno i funzionari del servizio partecipate acquisita la relazione. L'assessore Armao avanzerà la sua proposta al presidente della regione, socio unico di AST. Le strade sono due, ha aggiunto all'antimafia soprassedere oppure procedere alla revoca delle nomine. Sull'inchiesta l'assessore si è espresso in modo netto. Dall'ordinanza emerge un verminaio assolutamente inaccettabile. L'assessore all'economia esclude che qualcuno tra il personale del suo assessorato abbia suggerito all'ex management dell'AST, l'assunzione di persone attraverso l'agenzia interrinale, coinvolta nell'inchiesta della Guardia di Finanza, e ha annunciato che la regione si costituirà parte civile nel processo. In audizione Fava ha chiesto se i dialoghi intercettati, nei quali si parla di segnalazioni di persone da assumere all'AST fatte negli assessorati, si riferiscano all'economia. Conosco l'onestà del mio dipartimento, non mi risulta e lo escludo, ha risposto Armao, che ha ricostruito poi alcuni passaggi nel rapporto con l'ex presidente dell'AST, Gaetano Tafuri, indagato. L'antimafia ha chiesto più volte come mai il governo musumeci non abbia revocato l'incarico al vecchio CDA già due anni fa, quando con una interrogazione il deputato del Movimento 5 Stelle, Luigi Sunseri, aveva segnalato le anomalie nelle assunzioni di persone all'AST. Armao ha sottolineato che quando l'assessorato ha visto comportamenti non lineari, è intervenuto e ha ricordato che quando il governo venne a sapere dell'iniziativa ALI di Sicilia, con cui l'ex management dell'AST voleva creare una compagnia aerea, l'ex presidente Tafuri fu convocato alla presidenza della regione nell'agosto del 2020.